Preparare le polpettine Salsiccia, sgrano e tritare grossolanamente Aggiungere la carne macinata, le uova, la mollica fresca, il parmigiano, un pizzico di noce moscata, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe Tutto pronto per essere mescolato con le mani Preparare le polpettine con una porzione di circa 10g Preparare la salsa, picchietto d'aglio e cipolla tritata, pochi minuti per stufare e poi verso la passata Insaporare con sale e pepe Coprire con il coperchio e lascio cuocere mezz'ora Il sugo è pronto, rimuovere l'aglio e poi tuffare le polpettine Mescolare con estrema delicatezza e le polpettine cuociono ancora 15 minuti Nel frattempo mettiamo a rassodare le uova, le immergo in acqua fredda Quando raggiunge il bollore, conto 8-10 minuti Per una volta pronte le uova, le ho raffreddate e poi sgusciate Posso tagliarle a rondelle Spezzetto un po' di basilico per dare profumo e colore Un'ultima mescolata e lasciamo cuocere ancora 5 minuti Acqua bollore, butto la pasta La pasta è al dente, la scolo in una bella ciotolona Verso anche le polpette il sugo e mescolo il tutto Sul fondo della teglia, verso un paio di cucchiaiate di besciamella che è ottenuto fluida Proseguiamo facendo un primo strato di pasta La metà delle uova sode a fettine Metà della provola che ho già cubettato Una pioggia di parmigiano grattugiato E di nuovo, besciamella Le restanti parti di pasta, le uova, la scamorza e la besciamella E in ultimo, il parmigiano grattugiato Ora cuociamo la pasta al forno a 180 gradi per 15 minuti Dopodiché, per altri 5 minuti, in modalità grill a 240 gradi Dopo 5 minuti di riposo, è pronta per essere impiattata Non ci resta che scoprire se è buona Buonissima Buonissima